Bazzicando il mondo della divulgazione della fisica o più in generale della scienza, vi siete quasi certamente imbattuti nella nozione di entropia, parolina che con tutta probabilità vi è stata definita come una sorta di vaga misura del disordine di un sistema. Ora, questa definizione non è completamente da buttare via, ma perde di senso se non la si infila nel giusto contesto, ed è proprio questo, crononauti, che proviamo a fare oggi. Proviamo a dare un contesto alla nozione di entropia, proviamo a definire l'arena in cui è necessario farla muovere, proviamo a definire l'arena della termodinamica. Ma badate bene e non spaventatevi, non userò equazioni né concetti particolarmente complicati, anzi partirò da una questione molto 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 semplice e comune a tutti. Una pallina su un tavolo da biliardo. Una pallina su un tavolo da biliardo è un oggetto molto semplice. Quando noi le diamo un colpo la pallina inizia a muoversi e rimbalzare qua e là. Per descrivere il moto nel tempo della pallina, perché naturalmente la pallina si muove allo scorrere del tempo sui nostri orologi, ci bastano sostanzialmente due numeri. La posizione della pallina lungo un asse X immaginario, che coincide con il lato lungo del tavolo da biliardo, e la posizione della pallina lungo un asse Y immaginario, che coincide, per nostra scelta, non è una legge universale, col lato corto del tavolo da biliardo. L'importante è che ci bastano due numeri, nel senso che se specifichiamo dove sta la pallina, l'altezza della pallina lungo un certo lato, e l'altezza della pallina rispetto all'altro, sappiamo esattamente dove si trova la pallina. E se specifichiamo l'evoluzione nel tempo di questi due numeri, abbiamo codificato in modo completo il moto della pallina sul tavolo da biliardo. Tipicamente queste funzioni, perché è di funzioni che si tratta, se non avete familiarità col concetto non è così importante, stiamo semplicemente parlando di dei numerini, due numerini in questo caso, che dipendono dal tempo e quindi che cambiano nel tempo. Dicevo, queste funzioni generalmente saltano fuori come soluzioni di alcune equazioni, le cosiddette equazioni del moto della pallina. Ora, senza entrare troppo nel dettaglio, vi basti sapere che specificando la forma del tavolo da biliardo, la posizione iniziale della pallina, quindi due numerini, e la sua velocità iniziale, è una cosa che ha a che fare con la forza con cui la colpiamo in qualche modo, in realtà, però insomma è una cosa un po' complicata, non voglio entrarci in questo momento, dicevo, specificando due numerini che ci danno la posizione e due numerini che ci danno la velocità della pallina, la velocità lungo un lato e la velocità lungo l'altra, noi possiamo risolvere le sue equazioni del moto e conoscere esattamente la posizione della pallina in ogni istante del tempo. Le nostre condizioni iniziali, fissata ancora una volta la forma del tavolo da biliardo, sono niente più che quattro numeri. Questo è un sistema molto 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 semplice, come dicevo all'inizio, però la fisica non si occupa solo di sistemi di questo tipo, si occupa anche di sistemi che chiedono di essere descritti con un numero enorme di funzioni, con una quantità smisurata di numerini. Prendiamo l'esempio canonico, quello più facile in assoluto, quello di un gas. Se noi abbiamo una scatola piena di gas e la vogliamo descrivere completamente, lasciando stare la scatola e concentrandoci solo sul gas, altrimenti dovremmo entrare nella struttura molecolare del cartone che... lasciamo stare questa roba qua. Ok, pensiamo al gas, perché anche quello da solo ci basta ad uscire di testa, perché un gas tipicamente è composto da una quantità infinita, non infinita, ma gigantesca, infinita gergalmente, non in senso stretto, una quantità gigantesca di molecole, numeri assolutamente non maneggiabili, che vanno al di là della nostra capacità di calcolo, che sia computerizzata o cerebrale, numeri enormi, miliardi di miliardi di miliardi di molecole. Ecco, se noi volessimo descrivere completamente, completamente, come abbiamo fatto con la pallina sul tavolo da biliardo, la struttura di un gas, l'evoluzione nel tempo di un gas, per ogni molecola di gas dovremmo dare tre funzioni nel tempo, per le tre dimensioni spaziali, mentre la pallina da biliardo era costretta a muoversi su un piano, un oggetto a due dimensioni. Adesso le nostre molecole di gas possono muoversi nelle tre dimensioni, quindi per ogni molecola abbiamo bisogno di tre numerini che sono funzioni del tempo. Ecco, dobbiamo dare tre numerini funzioni del tempo per ognuna delle molecole, naturalmente per risolvere le equazioni del moto dobbiamo dare sei numeri esatti in un certo istante per ogni molecola, tre numeri che danno la sua posizione e tre numeri che danno la sua velocità lungo le tre direzioni. Ed è chiaro che risolvere le equazioni del moto con tutte queste molecole che interagiscono tra loro in infiniti modi super complicati sia un'impresa assolutamente non umana, assolutamente non alla portata dei nostri migliori strumenti di calcolo e quindi bisogna trovare una soluzione alternativa, una soluzione che i fisici hanno già trovato qualche secolo fa, quindi vengono in nostro aiuto i padri della termodinamica. La termodinamica in particolare ci permette di studiare un oggetto come un gas, come un oggetto collettivo, rinunciando. Rinunciando, quella volta non sapevano nemmeno che fosse fatto di molecole, erano un po' più confusi, non avevano ancora la cosiddetta meccanica statistica o magari se lo immaginavano perché l'idea di atomo è nell'aria fin da Democrito, però insomma non avevano un'idea così chiara di come funzionasse il calore e queste cose qua, eppure avevano una descrizione, una descrizione dei gas come oggetti collettivi capaci di evolversi nel tempo e caratterizzati da alcuni numeri generali. Ad esempio il volume di un gas. Il volume di un gas è un numero. Sebbene il gas sia un oggetto complicatissimo, fatto da tantissime molecole, se lo guardiamo da fuori e trascuriamo la sua struttura microscopica, possiamo studiarlo come un oggetto unico che ha un volume, una temperatura, una pressione. Queste grandezze che non sono legate al dettaglio del comportamento del gas, ma alla sua struttura, se vogliamo da lontano, sono chiamate grandezze termodinamiche. Sono come degli oggetti statistici, degli oggetti che emergono dal comportamento collettivo delle molecole e che possono essere studiati, descritti e diventare soluzione di certe equazioni, se vogliamo, senza dover per forza andare a vedere tutti i dettaglini del moto microscopico. Spero di essermi spiegato. Questa cosa, questa cosa non è così rara. La facciamo sempre in continuazione. Ad esempio, quando studiamo un fluido, un fiume, ad esempio, vogliamo costruire l'argine di un fiume, non ci interessa di andare a vedere il comportamento di ogni singola molecola del fiume, anche perché, per quanto riguarda un fiume, le molecole che guardiamo oggi non sono le stesse che guarderemo domani, nel senso che quelle di oggi saranno state spinte nel mare e quelle di domani invece saranno scese da una sorgente. Quindi in questo caso ci interessa solo il fiume come oggetto collettivo e vogliamo qualificare, codificare, studiare il suo comportamento come oggetto unico, collettivo. La stessa cosa la facciamo quando andiamo dal veterinario e portiamo il nostro cane perché ci sembra un po' strano, ci sembra un po' moggio, no? Tipicamente siamo solo noi super apprensivi, ma quando il nostro cane ci sembra un po' moggio lo portiamo dal veterinario. Il veterinario non ci risponde descrivendo lo stato di tutte le singole cellule del cane, un po' perché ci vorrebbe un tempo incomprensibilmente più lungo della vita di un essere umano e, in secondo luogo, perché non è una risposta adeguata al tipo di domanda che ci stiamo ponendo. Non è nemmeno utile conoscere lo stato di tutte le cellule e ancor meno di tutte le molecole che compongono tutte le cellule di un cane. Quando il veterinario ci dice che il nostro cane non ha niente, che siamo solo noi ad essere apprensivi, si riferisce al cane come oggetto collettivo, ma ancor di più in economia, in finanza. Quando noi ci diciamo la sera, fingendo di capire di cosa stiamo parlando, che Google oggi è salita del 2% alla borsa di New Yorko, che so io, in realtà noi stiamo parlando di un fenomeno collettivo, perché quel più 2% è composto da una miriade di microtransazioni di agenti finanziari che hanno venduto e comprato azioni di Google. Ma se siamo a cena e così pur parleci chiediamo come sia andata Google oggi, non stiamo certo cercando una lista di tutti i milioni, tutte le milioni di transazioni che sono state fatte oggi e che hanno coinvolto il titolo di Google. No, vogliamo un numero collettivo, un oggetto statistico, una cosa che ci dia un'informazione chiara e che non la nasconda sotto un mare di numerini. Ecco, questo è quello che fa la termodinamica nell'esempio del gas, ma in un sacco di altri esempi. Poi la termodinamica si è evoluta, abbiamo prodotto la meccanica statistica, che è una sorta di versione più raffinata, che ci permette di derivare il comportamento collettivo emergente del gas come oggetto unico, ad esempio, dal comportamento delle singole molecole, quindi noi descriviamo matematicamente la molecola, ne mettiamo tante 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 e con la meccanica statistica noi deriviamo la termodinamica del gas, il suo comportamento dal punto di vista delle grandezze termodinamiche, volume, pressione, temperatura e così via. Ecco, l'entropia fa parte di queste grandezze termodinamiche e per definirla con tutti i crismi dobbiamo introdurre altri due concetti e poi basta, promesso, altri due concetti e poi basta, ma in realtà li abbiamo già introdotti, dobbiamo solo dare dei nomi a delle cose di cui abbiamo parlato poco fa. Noi chiamiamo microstato di un sistema il suo stato descritto completamente, quindi il microstato di un gas è il suo stato dal punto di vista microscopico, per l'appunto il suo stato descritto come lista lunghissima di numerini che si riferiscono alle singole molecole del gas, quella lunghissima, scusate, lista che il veterinario non ci dà quando portiamo il cane per un controllo, quella lunghissima lista di microtransazioni che non interessano a nessuno quando ci si chiede se Google sia salita o scesa. Oggi, ripeto, senza capire esattamente di cosa si stia parlando. Quello è il microstato, quello completo, quello senza alcuna approssimazione. Il macrostato, invece, è lo stato di un sistema facendo un passetto indietro, lo stato del sistema visto come oggetto collettivo, uno stato che emerge da una media statistica di microstati, lo stato del gas descritto non come elenco di numerini, ma come temperatura, pressione, volume, entropia, e così via. Ecco, a uno stesso macrostato possono corrispondere tantissimi microstati diversi. E questo è ovvio, no? Perché se noi prendiamo un gas a una certa temperatura, poi ci avviciniamo e con delle pinzette molecolari spostiamo di un centimetro una molecola e poi torniamo fuori, chiaramente la temperatura del gas non è cambiata. È rimasta quella che è. Spostare una molecola non cambia il macrostato, ma certamente cambia il microstato, proprio perché il microstato ha a che fare con la posizione, la velocità e così via di tutte le molecole. Quindi spostare una molecola cambia il microstato, ma non il macrostato. Abbiamo un esempio di due microstati diversi e tantissimi altri che possiamo creare in questo modo che corrispondono allo stesso macrostato. L'entropia di un certo macrostato è una cosa che cresce al netto della funzione matematica specifica, ma è una cosa che è tanto più grande quanti più sono i microstati che corrispondono a un certo macrostato. Quante più disposizioni diverse delle molecole che compongono un gas, quanti più rimescolamenti, se questa parola esiste, delle molecole che compongono un gas, corrispondono a quello specifico stato, a quel macrostato che ci interessa, che ha una certa entropia. Un macrostato con un'entropia molto bassa potrà essere realizzato da pochi microstati. Un macrostato con un'entropia molto alta potrà essere realizzato da tanti, 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 tanti microstati diversi. In qualche senso, un macrostato con un'entropia molto bassa permette poca libertà quando si tratta di definire il microstato, permette poco spazio per cambiamenti, impone delle regole molto rigide e impone un ordine, in questo specifico senso. Un macrostato con un'entropia molto 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 alta permette molto spazio di manovra invece, per quanto riguarda i microstati. In qualche senso li vincola in modo meno rigido, con regole meno strette, accetta un po' più di disordine. In questo caso abbiamo dato una definizione di entropia come misura del disordine di un sistema che ha senso, ma sono completamente d'accordo con tutti quei miei bravissimi colleghi divulgatori che dicono che definire l'entropia come la misura di un disordine del sistema non abbia senso, a meno che non si faccia un discorso di questo tipo e non si definisca la parola disordine in questo modo iper specifico, che poi tutta questa roba qua dipenderà da cosa chiamiamo componenti microscopiche, ci fermiamo alle molecole, agli atomi, ai quark, alle stringhe o dove, e ancora di più dipenderà anche dal tipo di variabili macroscopiche che scegliamo, magari scegliendo diverse variabili termodinamiche cambia il nostro contare i microstati, no? Quindi dipende un po' da come scegliamo di tagliare il mondo, da quali siano le variabili più naturali per descrivere un macrostato, quindi essendoci tutte queste puntualizzazioni da fare è perfettamente sensato diffidare un po' della definizione di entropia come disordine. La si può accettare se invece si fa tutto questo discorso completo. Ora, l'entropia è uno di quei concetti della fisica che spesso vengono raccontati in modo confuso, come avete visto è una cosa molto semplice, macrostati, microstati, se i microstati sono pochi l'entropia è bassa, se i microstati sono tanti l'entropia è alta, pochi o tanti nel senso di microstati che corrispondono a uno stesso macrostato caratterizzato dalle stesse variabili termodinamiche. In qualche modo abbiamo demistificato l'entropia. Se vi va di sentirmi demistificare altri 11 concetti della fisica moderna, e se vi va di sentirmi farlo insieme a un buon amico e straordinario narratore, andate a recuperare il podcast Il Giro della Fisica in 12 Mondi, che ho realizzato con Roberto Mercadini per Audible. È uscito giusto lunedì scorso, lunedì 28 novembre, quindi siete ancora tra i primi se vi va di andare a sentirlo e lasciare una recensione. Io vi ringrazio di cuore in anticipo, vi ricordo che il modo migliore per supportare questo canale è iscriversi e condividere i video per aiutarmi a convincere l'algoritmo di YouTube che questa roba valga almeno qualcosa, e ricordate che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto, crononauti!